Davide Meneghini, nuovo consigliere comunale, oggi il primo consiglio all'Arcella, un tuo commento? Io sono molto emozionato, io sono nato qui all'Arcella, quindi la conosco bene, io ho potuto vedere tutti i problemi che si sono creati con il tempo, sono stati il quartiere che è stato lasciato più andare rispetto ad altri, io sono contento di essere qui, soprattutto per tutte le persone che mi hanno votato, quindi mi hanno nato la fiducia e mi hanno nato il loro affetto, e sono qui a rappresentarli al meglio nel quartiere in cui sono nato e sono contento già di questo. Sarete dei consiglieri in mezzo alla gente per sentire le esigenze, quali sono? Io penso anche a tutte le persone che mi hanno votato, mi hanno votato proprio per questo motivo qua, mi piace sempre stare con la gente, non riesco ad essere distaccato, anche forse per curiosità personale, mi piace sempre cercare di dare il mio contributo alle problematiche delle persone che mi stanno vicine, in questo caso probabilmente allargerò il bacino, cercherò di fare il mio meglio per tutti quanti.